Libro prezioso e soprattutto da custodire perché ci insegna che in un mondo popolato da rumori, frastuoni e fracassi l'ascolto è più prezioso del loro, ma soprattutto ci spiega cos'è il silenzio, a renderlo concreto, riuscendo a narrarlo e perché no a custodirlo. Un gruppo di amici si ritrova improvvisamente in una stanza tutta bianca ed eccezionalmente silenziosa, da qui comincia la loro splendida ricerca del silenzio attraverso voci, musica e risa.